Eremi, chiese, abbazie, autentici scrigni d'arte, tutti da riscoprire. E' questa la filosofia alla base dell'itinerario del silenzio e della fede ideato da Confcommercio Marche Nord, racchiuso in una comoda guida di 128 pagine. Il turismo religioso è in espansione in tutto il mondo e da questo punto di vista la provincia di Pesaro Urbino ha davvero tutte le carte in regola per trasformarsi in un autentico museo diffuso, a partire da borghi suggestivi come quelli di terre roveresche. Ricordiamo che nel nostro territorio sono nate le tre grandi congregazioni religiose che fanno riferire dei francescani, dei cappuccini e dei camaldoresi. Addirittura a Fossombrone nasce proprio l'ordine dei cappuccini perché è la bolla pontificia che ha riconosciuto la creazione di questa congregazione è stata data a due frati, anzi un frate e il fratello laico di Fossombrone. San Francesco ha fatto i primi passi nel nostro territorio e quindi abbiamo delle realtà straordinarie come la chiesa di San Francesco a Cagli ma come anche a Saltara. abbiamo un'abbazia molto importante e poi i camaldolesi, camaldolesi con l'eremo di Fonte Avellana ed altre realtà sul territorio. Qui a Terre roveresche abbiamo un concentrato di chiese e abbazie molto importanti e questa volta per la prima edizione dell'itinerario del silenzio della fede abbiamo inserito il santuario di San Pasquale Bailon qui di San Giorgio ma dato che faremo un'altra edizione, quantomeno un'altra edizione il prossimo anno, ci sono delle realtà straordinarie a Barchi, Sant'Ubaldo se non sbaglio, a Orciano. È un modo per far conoscerci ancora di più, per far conoscere anche quest'altro aspetto perché chiaramente noi siamo il paese di tanti campanili ma siamo anche il paese di tantissime chiese. Qui a Terre roveresche abbiamo il santuario di San Pasquale che poi è anche diventato il patrono di questo nuovo comune di Terre roveresche ma sparsi nella nostra bellissima regione e provincia ne abbiamo tanti altri quindi sono tutti raccolti in questo che è questa nuova pubblicazione di Conf Commercio. Noi qui oltre al santuario di San Pasquale abbiamo anche un altro importante santuario quello di San Giuseppe delle famiglie Paoline e anche lì addirittura loro nel tempo hanno creato 80 posti letto quindi non è solo qualcosa così di mordi e fuggi ma è qualcosa ormai di strutturato e quindi ecco speriamo che in questo ci possa dare quella visibilità che noi cerchiamo anche perché poi sapete adesso non è che diventeremo un altro cammino di Santiago del Compostela ma anche quello è un attrattore importantissimo e qui potremmo anche creare adesso lo proporremo alla Conf Commercio questo il cammino nel nostro itinerario del silenzio della fede non è lungo come quello là però si potrebbe fare. I luoghi di culto con tutte le loro bellezze diventano sempre più un volano per la creazione di una proposta turistica che coinvolga sì la costa ma anche quelle aree dell'entroterra che nelle grandi vetrine del marketing territoriale rischiano sempre più spesso di rimanere un po' nelle retrovie. Conf Commercio sta facendo un lavoro egregio con questa diversificazione sarebbe opportuno che adesso è cambiato anche il governo ci sia un'attenzione maggiore soprattutto per questi piccoli borghi perché altrimenti noi vediamo anche tutta una serie di politiche, attività e progettualità che invece vanno sempre verso la costa, verso il mare. Visto che siamo a Terre Roveresche oggi annunciamo anche che il 15 di novembre, quindi tra pochi giorni, organizzeremo un educational con gli operatori turistici della costa e li portiamo tutta la giornata a Terre Roveresche perché è vero che noi ci sforziamo di fare promozione in Italia e nel mondo però abbiamo la consapevolezza che bisogna far conoscere il nostro territorio prima ai marchigiani e a quelli della costa che spesso e volentieri non conoscono le bellezze del nostro territorio. L'impegno di Conf Commercio a favore del turismo ha davvero molte facce. Si va dall'ormai consolidato itinerario della bellezza che vede coinvolti ben 18 comuni tra cui le New Entry Piobbico e Isola del Piano all'itinerario musicale al Via da Novembre incentrato su bande, cori e festival sparsi per il nostro territorio. Alla Beat di Milano verrà inoltre presentato il primo itinerario di mototurismo regionale.